Consentitemi un attimo di malinconia, un attimo di malinconia che può capitare guardandovi intorno, ripensando a quelli che potevano essere i progetti realizzati e che in fondo poi hanno trovato un qualche inciampo e non si sono realizzati. Malinconia, malinconia per una persona come me, la quale è un ribollire continuo di creatività, malinconia per una persona come me, la quale crede profondamente e inutilmente credo che si potrebbero realizzare tante, ma davvero tante belle cose con risultati anche commercialmente utili soltanto se ci fosse questa voglia, questa voglia vera di fare sistema, di fare squadra, di costruire insieme qualcosa nella solidarietà comune e nella lealtà comune. Ma ahimè, la mia malinconia di oggi mi fa dire che forse sono una persona che sogna l'impossibile in questo paese così bello, ma così contraddittore. Grazie a tutti, grazie a tutti.